Un certo Steve Rubella aveva un sogno. Organizzare la più grande festa che si fosse mai vista e farla durare in eterno. Creò un mondo che divenne qualcosa di reale. Dove una reginetta di 80 anni poteva scatenarsi fino all'alba. Dove le modelle si univano ai meccanici, gli idraulici ballavano con le principesse. Un posto dove non c'era spazio per le etichette. Un posto dove non esistevano regole. Al Mamma Non Mamma ospite Vanessa, la voce più bella, l'artista più brava. Questo è il risultato. Ebbene sì amici di Leta Nero. No ma rincuoriamola, rincuoriamola. No non fa niente. Ma non è vero, non è vero. Non sono una nuova data di scopo. No non è vero, non è vero. Praticamente mi ha detto io con te l'intervista. No perché io non mi permetto, perché purtroppo c'è una persona che si è innamorata, quindi io non mi posso permettere. Volevi parlare lei, una persona seria. Io mi sono innamorata di lui. Allora tu Vanessa prendi come tuo legittimo sposo il qui presente principe Alfonso? Magari. Si lo vuoi? Lo voglio. E tu Alfonso, prendi come tua legittima sposa la qui presente Vanessa? Mi dispiace però io purtroppo ho preso già la mia legittima sposa. Mi dispiace per Vanessa con tutto il cuore. Vi prego però non mi fate queste cose. Vanessa seduta e abbandonata. Ma lui c'ha una moglie bellissima. Non mi permettere mai di sedurla. Mai, mai, mai. Però Vanessa possiamo dire che tu hai sposato la musica. Io ho sposato la musica e ho sposato il Mama non Mama e il Movida. Questi due locali a Salerno e a San Marzano dove è sempre una festa. E quindi come avete potuto vedere stasera il Mama non Mama pieno. Molte persone a cenare, a mangiare. Non ce l'aspettavamo. Il Mama non Mama è pieno per un solo motivo. stasera. Perché? Perché c'è Vanessa. Ti lascio magari alla discoteca. Magari ti sfreni un po' anche tu stasera. Ma dai. Si rompiamo gli schemi. Andiamo tutti allo Studio 54. Ecco ci trasferiamo al Mama, ma allo Studio 54. Va bene. Ciao, grazie. Un bacio agli amici di Night in Day. Un bacio. Ci siamo, ci siamo amici di Night in Day. Sono in compagnia di tanta bella gente. Anzi, tante belle donne. Ciao, come si chiami? Carla. Carla, lo sapevo già. Volevo vedere se sei ripreparata ma sei preparatissimo. E tu? Ivana. Ivana, ma come mai state le intervistate? Ho l'onore di intervistarvi. Ma questo è un lieto ritorno. Un lieto ritorno. Ecco, spieghiamolo. È un déjà vu. Un déjà vu. Vabbè, a parte che ci abbiamo messo tutto il nostro impegno nel lavorare, comunque nell'immagine. Poi abbiamo fatto anche sempre bella pubblicità, è normale. Le linee del Mama non Mama. È certo, è certo. Giusto? Ho detto bene? Cosa hai detto? Ma chi preferisci tra le due? No, no, guarda. Loro sono delle ragazze stupende, bellissime, solari, che hanno illuminato le notti di questo locale per un po' di tempo e stasera perciò c'è questa luce perché sono venute loro. E partiamo da quello che è il venerdì alternativo di Salerno. Io amo tantissimo. La serata caraibica, serata latina, palli di coppia, palli di gruppo, tutto ciò che è Sud America, salsa merengue baciata, New York style, Los Angeles style. Ah, se ci pego. Vabbè, quella è un'altra cosa, poi vi parliamo dopo. Perché se prima la salsa passava prima di qua, adesso la salsa a Salerno passa solo di qua. Ma si ferma qua. Voglio dire una cosa, come diceva un amico mio, diffidate delle imitazioni, l'unica vera serata a Salerno, la facciamo noi, anzi la fate voi. Ecco, la fanno loro, hai detto bene, ti sei corretto, ti sei salvato in calcio d'angolo. Andiamo avanti, il sabato sera le immagini di questa settimana parlano da sole, mamma non mamma è in preserata, tanta gastronomia, bene bene, buone birre, buoni vini, tante selezioni, così, per poi passare dopo la mezzanotte, after midnight, come dice il Perugno. La Svizzera stasera, perché hanno visto le immagini di questo locale, sono venuti stasera dalla Svizzera quattro persone, per noi è un onore e una soddisfazione. Il messaggio è arrivato ai confini. Amici di Night and Day qui allo Studio 54 se ne incontrano davvero delle belle, addirittura dalla Svezia. How are you? I'm fine, thank you. What's your name? Kathleen. Have fun here? Yes. Can you take a kiss from Studio 54 to the Friends of Night and Day Television? Thank you, have fun. Il messaggio arriva anche al di là dell'oceano, perché ci sono gli amici di New York che mi prendono sempre in giro perché dicono New York a Salerno con la salsa quando facciamo la strada. Eh, veramente, vi state superando ogni volta. Domenica questa settimana, quindi per tutte le settimane a seguire, un lieto ritorno qui al Mama non Mama, serata 70-80 Revival, ingresso gratuito, buffet di benvenuto per tutti quanti. Una serata vintage. Una serata molto vintage come lo Studio 54, a tema con quello che è l'ambientazione scenica e che noi abbiamo cercato di dare creando questo angolo, come dire, di disco. Volevo solo dire una cosa, poi dice tutto sabatino, perché io volevo solo dire, annunciare il motto dello Studio 54, che è il nuovo motto, il motto che sarà quello che seguirà questo locale fino alla morte. E voi che ci guardate, se venite in questo locale, non saprete mai se siete venuti in paradiso o all'inferno, ma di sicuro vi divertirete. Info line 089 28 51 582, 345 088 5899, contatti Facebook Studio 54 Club Dance Salerno, oppure Mama non Mama a Disco Salerno, oppure c'è il mio contatto Facebook. Questa volta non c'è. Un bacio a lei di televisione.